Ragazzuoli, ciao a tutti, visto il gol decisivo di Morata, il nazionale che ha portato la Spagna direttamente qualificata per i mondiali di Qatar 2022 a me sembra un dovere a questo punto parlare dell'attacco della Juventus anche perché come avrete banalmente intuito dal titolo è uscita una notizia ieri se non sbaglio che senza ombra di dubbio quantomeno fa sognare, poiché sia vera o meno noi questo non lo possiamo sapere in cuor nostro speriamo un pochino tutti quanti che sia vera come notizia e non giriamoci troppo attorno allo stesso tempo però è sempre meglio lasciare il beneficio del dubbio la notizia è stata lanciata dal Corriere Fiorentino quindi sicuramente non una testata filo juventina che va a scrivere cose per assecondare i tifosi della Juventus allo stesso tempo però potrebbe magari essere anche una di quelle notizie non proprio vere che però aizzano in un qualche modo la folla in questo caso i tifosi della Fiorentina nei confronti di Dusan Vlaovic anche perché diciamo che da quando è uscito il comunicato ufficiale della Fiorentina dove commisso ha detto che Vlaovic non rinnoverà anche se gli era stato proposto un rinnovo interessante sappiamo bene o male un pochino tutti qual è il sentimento del tifoso della Fiorentina nei confronti di Vlaovic che ci può anche stare soprattutto nel momento in cui è proprio il presidente che in sostanza dice scannatevi pure ma a prescindere da questo noi giustamente dobbiamo guardare la notizia lato Juventus e obiettivamente si fa abbastanza sognare la notizia sparata dal Corriere Fiorentino con anche una cosa interessante che hanno aggiunto tra le altre cose ma prima di entrare nel merito ragazzuoli ciò a tutti buon mercoledì manca sempre meno al ritorno della Juventus e anche questa cosa qui comunque non è proprio banale insomma finalmente ci siamo quasi c'è anche un importante elenco dei morti di guerra però è un classico della sosta delle nazionali ma di questo magari ne parleremo a tempo debito e prima di entrare nel merito ragazzuoli come al solito se anche voi siete degli importanti sognatori un bel mi piace e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale che tanti di voi che guardano i video non sono iscritti detto questo che cosa ha scritto il Corriere Fiorentino che fa così tanto sognare il tifoso giuventino medio ha scritto che pare ci sia già un accordo tra Vlaovic e la Juventus con una cifra fissata sui 6 milioni di euro che tra l'altro è anche quella che è la richiesta del del giocatore quindi tutto fa pensare dal loro punto di vista quantomeno seguendo bene o male la linea dell'articolo ad un matrimonio che sa da fare tra Vlaovic e la Juventus e qui secondo me c'è lo stesso identico problema che c'era per Donnarumma oddio proprio identico no per quanto riguarda Donnarumma il problema principale era Scesni e soprattutto il suo contratto non c'era nessuna squadra da convincere a differenza della Fiorentina che comunque devi devi convincere e non è neanche proprio simile proprio dal punto di vista degli slot no perché Scesni dovevi venderlo per forza qui basta non riscattare Morata quindi una cosa che potenzialmente puoi fare in tutta tranquillità allo stesso tempo però una cosa che li accomuna è il fatto che io non metto in dubbio che la Juventus possa avere un accordo con il giocatore magari 6 milioni la cifra che è quello è poco importante il problema però è appunto come appena detto è convincere la Fiorentina per quanto riguarda Donnarumma dovevi convincere Scesni e soprattutto le squadre di tutto il mondo a prendere Scesni qui devi convincere la Fiorentina che ricordiamo la richiesta è di 80 milioni non proprio una cifra bassa 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 è vero che ultimamente si sta parlando anche di possibili contropartite da dare alla Fiorentina per abbassare la parte cash per Vlaovic allo stesso tempo però è dura è parecchio dura anche perché lo stesso Corriere Fiorentino ha parlato di una possibilità da parte di commisso di mettere Vlaovic fuori rosa pur di non farlo andare alla Juventus e dargli la possibilità di decidere bene altre destinazioni bene o male il clima è più o meno questo qui e da un certo punto di vista lo capisco perché adesso va bene magari fare puntualmente delle dichiarazioni anti Juve però se poi nel giro di tre anni dai alla Juventus Chiesa e Vlaovic ci può stare che la piazza Fiorentina si possa incazzare nei confronti del presidente quindi questa qui pare essere una mossa di commisso per non mandare Vlaovic alla Juventus non so quanto possa essere producente proprio per la Fiorentina non tanto per il trasferimento di Vlaovic ma più che altro perché sai l'idea di mettere uno come Vlaovic fuori rosa significa che comunque togli una discretissima percentuale di gol ecco poi non so di conseguenza come potrebbe andare il campionato della Fiorentina ma questo onestamente poco importa la cosa che sicuramente importa è che con buona probabilità ci rimarremo male per l'ennesima volta perché tutti stanno continuando ad insistere su questo matrimonio che praticamente si farà tra Vlaovic e la Juventus la Juventus sembra non pensi a nessun'altra altro se non Vlaovic Vlaovic sembra non pensi a nessun'altra squadra se non alla Juventus tanto che era uscita la notizia qualche giorno fa che lui e il suo entourage avevano smesso di cagare l'Arsenal questo ovviamente come aveva detto anche Romeo al tifoso juventino fa pensare questo vuole venire da noi la realtà purtroppo è che se Vlaovic dovesse andare via a gennaio probabilmente la squadra non sarebbe italiana quindi poi di conseguenza scenda subito un sogno che finisce ma almeno finisce subito non sarebbe poi neanche più di tanto male come cosa almeno te lo togli subito dai maroni e tanti saluti anche perché notizia di oggi anche questa secondo me abbastanza interessante pare che soprattutto grazie all'aiuto di David Treseguet la Juventus possa andare a prendere Alvarez l'attaccante 2000 del River Plate per una cifra di 15 più 10 leggevo un giocatore comunque abbastanza interessante probabilmente più economico di Vlaovic e in caso l'alternativa c'è l'alternativa finale è anche il riscatto di Morata ma di quello ne ho già parlato in un video di una decina di giorni fa dove insomma non sarebbe proprio il massimo dal mio punto di vista poi ovviamente non si sa che cosa accadrà allo stesso tempo però secondo me è giusto dare priorità il più possibile quantomeno a Vlaovic e se ci si mette anche il Corriere Fiorentino la situazione inizia ad essere particolare perché già che lo sogniamo tutti quanti se proprio no giornali di Firenze che seguono la Fiorentina iniziano a parlare di Vlaovic e la Juventus di accordo tra la Juventus e Vlaovic così non va bene più che altro perché poi ti arriva commisso no voglio 80 milioni me ne dai 70 sei cast in culi non è proprio il massimo eppure è così dobbiamo sognare ma ci sta se non sogniamo per questo per cosa sogniamo tante volte abbiamo sognato dei campioni che dovevano arrivare poi puntualmente non sono arrivati uno più uno meno né che cambi poi chissà quanto ecco voi comunque fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza Juve ciao 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 ciao